Ben trovati e bentornati a Storie. Stiamo cominciando a guardare insieme tutto il panorama in cui si svolge l'Iliade. La leggenda vuole che tutto sia partito da una mela, una mela buttata sul tavolo della dea della discordia Eris e questa dea della discordia abbia in qualche modo aperto le ostilità, le ostilità per definire quale fosse la divinità più bella. Sono tre le candidate ad essere la divinità più bella, Afrodite, la dea della bellezza, Atene, la dea della sapienza, la dea della giustizia e era la dea del focolare e moglie di Zeus. La scelta fra chi fosse la più bella spetta in qualche modo all'uomo che viene ritenuto il più bello di tutta la terra e quindi viene individuato Paride, Paride che altri non è che il figlio di Priamo, il re di Troia. Priamo ha due figli, il primo figlio si chiama Ettore, il secondo figlio si chiama Paride. Questi due figli sono il futuro di Troia, il più giovane di questi due figli è bellissimo e a lui viene deciso di affidare la sorta del giudizio, il giudizio di quale di queste tre fosse la dea più bella. È evidente, noi lo sappiamo in quanto Afrodite è la dea della bellezza, che il giovane Paride sceglie Afrodite facendo non poco arrabbiare sia Era che Atena, che da questo momento delineano due schieramenti. Da un lato lo schieramento di Afrodite, che sarà a favore dei Troiani, a favore del giovane Paride che ha scelto lei come la più bella e dall'altro invece lo schieramento pro-greco che sarà impersonato da Era e da Atena. Tutto questo farà partire poi la guerra vera e propria, perché Paride si innamora di Elena, allora Elena in qualche modo viene o rapita o fugge con Paride, non si capisce bene a seconda delle versioni del mito, tutto questo sotto l'egida di Atena, sotto l'egida di Afrodite che permette, per ricompensare Paride del fatto che l'aveva scelta come la dea più bella, permette che questa vicenda possa avere seguito. La ragazza viene portata quindi a Troia e da quel momento le divinità cominciano a competere per l'alternarsi delle sorti della guerra. Al centro abbiamo Zeus, Zeus è il dio equilibratore, viene ricordato come il padre degli dèi e colui che porta la giustizia e riequilibria le sorti. Da questo momento in poi ci saranno due grandi attori fondamentali, il concilio degli dèi che decide in qualche modo ogni volta qual è l'azione da intraprendere, alla cui corte stanno tutte le divinità che conosciamo, a parte le tre che abbiamo già accennato, dobbiamo ricordarci Ares, il dio della guerra, dobbiamo ricordarci Apollo, il dio del sole, il dio della caccia, e dobbiamo ricordarci, non ultimo, Efesto, il dio che è destinato all'artigianata, alla produzione delle armi, che sarà fondamentale per quella che si profila essere una lunga guerra. Primo protagonista quindi il concilio degli dèi, il concilio degli dèi prenderà delle decisioni, ci saranno degli schieramenti che magari durante le fasi della guerra varieranno di volta in volta, e secondo protagonista indiscusso invece sono le divinità minore che la fanno da padrone in tutta questa nostra narrazione. Vedremo divinità collettive, parliamo delle rinni, ad esempio queste divinità che avevano come appunto compito quello di annunciare, a volte sciagure, a volte disgrazie di varia natura. Parliamo di divinità come possono essere le divinità minore come le ninfe, la ninfa teti, che abbiamo già visto essere la mamma di Achille, la dea mamma di Achille, e parliamo di divinità che invece hanno un ruolo un pochettino più defilato, ma che sono altrettanto importanti. In questo caso ad esempio parliamo della dea Iride, la dea Iride è quella che è destinata a far vedere le cose come sono, al punto tale che Iride è il nome proprio anche di una parte dell'occhio umano da cui deriva il nome della divinità. La parte dell'occhio deriva dal nome della divinità. Perché è importante sapere questo? Perché gli dei si comportano esattamente come gli uomini dentro lì e dentro lì di sé, e quindi sono loro che con i loro capricci, con le loro scelte, con i loro dubbi, con i loro errori, influenzano pesantemente la guerra. Vedremo che però la narrazione è un sapiente equilibrio. Chiunque abbia cucito insieme tutto questo materiale che veniva tramandato da secoli, ha saputo affidare agli dei un ruolo molto importante. Infatti gli dei non sono coloro che manovrano le sorti, ma sono coloro che in qualche modo fanno vedere l'animo dei personaggi. Le divinità fanno capire che cosa succede in profondità. Ed è molto interessante perché nel mondo greco divinità e profondità sono molto affini e sono sicuramente significative l'uno per l'altro. Tutto ciò che accade alle divinità è perché accade in profondità. Tutto ciò che accade nelle profondità dell'uomo accade visibilmente alle divinità fuori dell'uomo. Tenendo presente questo collegamento, tenendo presente la storia con tutti gli eroi di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, siamo adesso pronti per raccontarvi in prima persona qual è la trama e la vicenda di Riliade e il suo oggetto. Ci vediamo domani, ci vediamo qui a Storie per parlarne ancora. Grazie. Grazie. Grazie.